Talenzia Software è un gruppo internazionale impegnato nella realizzazione di soluzioni software nell'area del performance management, in particolare nelle aree di finance con il budgeting, il consolidato, l'accounting, il reporting e nell'area delle risorse umane con la gestione del personale e il talent management. In queste aree Talenzia si pone come leader europeo per le aziende di medie e grandi dimensioni. La collaborazione con Aruba è nata dalla necessità di dover modernizzare tutta l'infrastruttura IT a supporto dei servizi cloud e SaaS di Talenzia utilizzando le più innovative tecnologie cloud. Questo ha portato anche a una revisione di tutti i processi di business secondo un'ottica diversa, un'ottica più orientata al mondo DevOps. Aruba ci è venuto incontro con una soluzione ritagliata sulle nostre esigenze, per cui abbiamo utilizzato la Aruba Private Cloud che è appunto un virtual data center che ci ha consentito di poter mantenere il controllo completo sull'infrastruttura e nel contempo mantenere anche una certa autonomia nella realizzazione di complesse architetture a supporto dei nostri servizi. Per la salvaguardia dei dati dei nostri clienti abbiamo adottato Aruba Cloud Backup e inoltre un sistema di replica sincrona dei dati tra i data center di Aruba. Un ulteriore aspetto alla possibilità di ospitare i nostri teati in un data center già conforme alle normative europee.